Buona domenica 10 settembre a tutti. Sono le 11.55 e continuiamo la nostra carrellata sui cicli superiori con analisi evoluta con il MIB, l'indice italiano. A che punto siamo arrivati? Siamo arrivati al fatto che abbiamo traforato la nostra Kumo, siamo finiti da un livello all'altro e appena abbiamo toccato il livello inferiore, puff! Nei tempi corretti tra l'altro di un ciclo settimanale, 11 barre rimbalzo. Per cui, che cosa ci aspettiamo almeno per i primi due giorni della prossima settimana? Un tentativo di spinta verso l'altro, esattamente come disegnato, un tentativo di ritorno verso questi livelli a 28.658 punti, e vedremo se questa spinta sarà abbastanza per riportarci anche più in su. Anche perché vi faccio notare che quando siamo scesi e rimasti sotto un massimo per un tot di tempo, lo abbiamo fatto per 24 barre e noi siamo già a 28. Qui per molto più tempo, 53 barre, ok? E quindi dobbiamo un attimo comprendere che cos'è questo, vuole da qui partire finalmente un nuovo annuale di inverso? A quanto tempo siamo soprattutto di inverso? Perché l'importante è sempre fare questi raffronti. Uno, vi faccio notare che in ogni caso la tendenza sarà, è rialzista. Qui abbiamo vincolato un ciclo a salire, per effetto dell'inverso tra l'altro, ok? Qui abbiamo fatto 401 giorni, 200 più 200, a casa mia durata minima di un annuale inverso, con un biennale inverso potenzialmente chiuso qui e da qui può iniziare come minimo un annuale inverso. Però che cosa ci serve per far partire un annuale inverso? Ci serve almeno un trimestrale, ovvero 48 giorni sotto un massimo, altri 20 giorni sotto questo massimo a 29.642 punti. Ce la faremo? Oppure è ancora una parte di questo biennale non scomponibile e ci riporterà ancora su. Perché di nuovo i riscontri li avremo in maniera molto semplice da che cosa? Anche solo da come ci muoveremo sulle medie mobili, ok? Qui, quando abbiamo iniziato la nostra salita per la partenza di un nuovo biennale, abbiamo superato sia la media mobile a 50 che quella a 200. E poi quella a 50 ci ha fatto da traghettatore tra i cicli. Primo t più 4 siamo scesi sopra, poi ci siamo tornati sopra, ok? E qui di nuovo siamo penetrati sotto. Se ritornassimo qua sotto avremmo un'altra idea di che cosa può partire e di che cosa può essersi chiuso qui sopra, ok? Per questo motivo, all'inizio della settimana vedremo che spinta e che volumi avremo perché dopo che abbiamo fatto un intero settimanale, dopo un raccordo anche qui di grado T-1 tra mensili da 11 giorni e 11 è il tempo massimo di durata di un settimanale, poi parte un nuovo settimanale per cui ci servono 48 barre sopra un determinato minimo, se ritorniamo a parlare di un 15 minuti e noi per adesso ne abbiamo 22, ok? Ne mancano ancora 26 di barre, 26 fratto 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 praticamente 7 ore, una giornata di domani ci serve tutta per vedere se rimaneremo qui sopra. Target, come dicevamo, iniziamo a prenderci questo, 28473, ok? E soprattutto vedremo se andremo piano piano a vincolarci di inverso, qui purtroppo, se non mi ricordo male, abbiamo perso il vantaggio perché siamo già oltre le 24 barre e siamo a 34, ok? In ogni caso faremo attenzione a tutte le condizioni che ci permettono di andare a eventualmente fare che cosa? Valutare un long chiuso un t-3, ovvero un ciclo giornaliero. Noi siamo già a 22 barre, se vogliono prima andare a chiudere a 24, 25, 26 con una discesa il nostro t-3, ci fanno soltanto un favore perché valuteremo eventualmente di prendere posizioni a rialzo long, ok? Eventualmente se avremo il nostro tecnica 2 che ce lo segnala, ovviamente ci daremo da fare in quel senso. Per questo motivo finito il tempo di questa settimana a noi serve salire. Per quanto tempo al massimo possiamo salire? Possiamo salire al massimo per quanti giorni ci permette l'inverso, ovvero 3 giorni e con l'altro target che è quello del livello superiore appunto della Kumo, ok? Qui ho continuato a fissare un punto J perché tornando qui sopra avremo già un certo tipo di allarme sulla durata della discesa, ok? Per cui lo lascio qui e vediamo che cosa succede. Come avete visto opinioni date zero, ok? Non vi ho parlato di eventi, non ho mai parlato di Jackson Hole tra l'altro in queste settimane piuttosto che di tassi e di altre cose perché come vedete le analisi sono corrette. Tendiamo target nella maggior parte dei casi su tutti i mercati e le criptovalute proprio perché non badiamo alle news, a quello che ci raccontano dopo che è arrivato un determinato movimento ITG piuttosto che giornali e a un sacco di cose che non servono sostanzialmente a nulla. Questo è un canale per tecnici, ok? Non per opinionisti. Per questo motivo se avete degli amici che purtroppo fanno ancora parte del Parco Buoi segnalategli che questo è l'ultimo film che ho visto, We Are Your Friends, no? Segnalategli, tra l'altro molto carino, che questo è il canale dove venire per capire effettivamente in anticipo come si possono muovere mercati e criptovalute. E se apprezzate lo sforzo anche di tutto questo lavoro fatto anche di domenica mettete un bel like. Buona giornata a tutti, arrivederci!